È il crostino nero il re delle prelibatezze a retine. Si è conclusa la fase di votazione del progetto piatto tipico Mangiar Bene Arezzo, promosso da Confesercenti, Associazione Cuochi e dal gruppo Facebook Mangiar Bene. E da conquistare il palato di chi ha partecipato alla sfida a colpi di like, sono stati appunto i crostini neri. Il concorso è però solamente il primo passo di un progetto ben più ampio, avviato per promuovere nei menu dei ristoranti del territorio i piatti secondo le antiche ricette. Tra i tavoli dei ristoranti che aderiscono al progetto piatto tipico Mangiar Bene Arezzo saranno da adesso distribuiti ai clienti e ai visitatori anche le brochure con le ricette tradotte anche in lingua inglese. Si è conclusa con successo, spiega Mario Checaglini, direttore di Confesercenti, la prima fase è che ha visto incoronare come miglior piatto i crostini neri. D'ora in avanti l'auspicio è che la clientela riesca ad individuare meglio i piatti tipici del territorio all'interno dei menu in modo da promuoverli e valorizzarli. La selezione ha indicato il migliore e quello più buono secondo i votanti, aggiunge Patrizio Gabutti, ma ad essere valorizzata sarà la nostra cucina all'interno dei ristoranti che aderiscono al progetto. È soddisfatto anche Gianluca Drago, presidente dell'associazione Cuochi di Arezzo, che invita i ristoranti ad esporre vetrofanie in modo da valorizzare e promuovere i piatti tipici tra clienti e turisti.